La mamma stava scaricando la spesa nel giardino di casa mentre lui, un bimbo di due anni, seduto sul seggiolino, giocava con le chiavi dell'auto. Accidentalmente il piccolo ha però chiuso la porta della macchina, restando intrappolato nel mezzo. La madre, preoccupata per l'elevata temperatura all'interno dell'abitacolo, ha subito allertato il 113. Uno degli agenti intervenuti in soccorso del piccolo ha quindi rotto il vetro opposto al seggiolino, mettendo in salvo il piccolo e riconsegnandolo tra le braccia dei genitori.